Spesso mi chiedete le ricette di pesce più semplici per chi ha le prime armi. Per iniziare a cucinare pesce conviene partire da filetti di trota oppure di salmone. Hanno costi accessibili e hanno carne semigrasse che rimangono succulente anche se si supera il tempo di cottura. Un pezzo di filetto da 400 grammi va bene per due persone. Taglialo in singole porzioni e cuocilo 4-5 minuti per lato in una padella antiaderente. Il tempo effettivo di cottura dipende dallo spessore del filetto. Una volta cotto e rosolato il pesce puoi servirlo direttamente con un filo d'olio e qualche gozza di limone oppure puoi accompagnarlo ad una salsa o a dei funghi che dovrai cuocere in una padella a parte.